E' troppo poco che il Messina sia uscito dal campo del Monopoli soddisfatto del gioco, perché con questa sconfitta la squadra peloritana è ritornata ultima in classifica e domenica c'è un'altra gatta da pelare, anche se in casa il Montero si tuscia. Passano le domeniche e si assottigliano le possibilità che il Messina mantenga la Serie C, salvo miracoli dell'ultima ora come lo scorso anno. Siamo stati buoni profeti invece per l'Accademy Sant'Agata in Serie C femminile. Dalla trasferta di Cosenza, le ragazze tirreniche sono tornate con un punto e un pareggio che fa morale in una partita in cui si è segnato molto 3-3. In Serie D il Città di Sant'Agata ha fatto capire al Catania di che passo è fatto ed il 3-2 del Cibali a favore degli Etnei la dice lunga sul valore della squadra di Vanzetto, pronta a riscatto in casa contro la mariglianese Faralino di Coda. In eccellenza il Taormina travolge la nuova Giai Virtus con un secco 3-0, la Nembros ha fermato la Leonzo sul pari e lo stesso ha fatto la Ionica con il Palazzolo. Dall'area tirrenica altre rose e spine, le ultime per il Milazzo, sconfitto in casa dal Modica, le rose per la Rocca Quedolcese vincente con brivido sul Santa Croce. In promozione per l'area tirrenica ridono solo Gioiosa in casa e Sant'Angiolese fuori, cadono Castelluccese, Profalcone, Mistretta e San Fratello. Non arrivano buone notizie nemmeno dal Giro nei C per le Messinesi, sconfitte per Atletico Messina, Valle del Mela e Nuova Azzurra Fenice esultano solo Messana e Sant'Alessio. Prima categoria a Giro nei C, risultati con molte vittorie esterne. A Naso Futura batte Nassitana 2-1, a Capodorlando Petrelia e Soprana batte Orlandina 3-1, Castellana e Aluntina 1-1, a Petrelia e Sottana Rosmarino batte Petrelia e Sottana 1-0, a Tortorici Real Casale batte Tortorici 2-1 e a Gangi in Sporti in Termini batte Gangi 2-1. Nel Gironedia a Santa Locea del Mela Rodimilici batte Melas 3-1, Orsa batte Monforte 4-1, Nuova Rinascita e Aquila 0-0, Sfarandina batte Comprensione del Tindari 3-0, Stefano Catania batte Galati 1-0, a Torregrotta Lipari batte Torregrotta 1-0 e a Milazzo Sinagra batte Folgore Milazzo 4-0. Infine la seconda categoria a Gironi e C, Ficarri Alcara 1-1, Terme Vigliatore batte Juveniglia 2-0, a San Salvadori di Fitalia e a Rometta Barea batte Fitalese 3-1, Pollina finale batte Don Pepino Cutropia 2-0, a Messina, Real Rocchennere Nuova Peloro 1-0 e Provinciale batte Pettineo 5-1.